Alla radice della parola artigianato il termine arte, quella espressa con le opere esposte nelle ex scuderie del Palazzo Malvini Malvezzi di Matera, un connubio tra manufatti artistici e le fotografie di Daniele Barraco, di luce propria il titolo dell'esposizione dell'Unione Artistico e Tradizionale di CNA, tornata qualche anno dal 2019, aperta fino al 9 dicembre, per proseguire poi in altre città italiane. È un'iniziativa, un progetto importante perché sono artigiani e artisti da tutta Italia che decidono di mettersi insieme, poi oltretutto senza neanche un tema, spesso e volentieri ci sono le mostre che hanno dei temi, un titolo, invece noi non l'abbiamo voluto dare perché questa è arte. Questa noi la riconsideriamo una ripartenza, il livello nazionale ha proposto che ci fosse una nuova edizione, noi come CNA Basilicata abbiamo da subito accolto questo invito e tra l'altro crediamo che le opere in mostra, parlo delle realizzazioni dei nostri artigiani, ma anche questo connubio con le foto di professioni, di mestieri artigiani, penso appunto al sarto, al barbiere, il sellaio, il calzolaio, insomma sono tutti mestieri che comunque richiamano anche alla tradizione artigiana, ben si sposano in questa splendida cornice anche dell'ex scuderia di Palazzo Malvini Malvezzi. Città millenaria Matera si presta in maniera naturale alla valorizzazione dell'artigianato artistico, settore che anche grazie al supporto delle istituzioni può creare un'alternativa per i giovani. Una delle missioni della nostra amministrazione è proprio quella di sostenere l'autoimprenditorialità giovanile, quindi creare tutte le opportunità possibili a che i giovani possano sentirsi stimolati. Proprio questi giorni densissimi di eventi mirano a questo.